Ecco come fare i carciofi alla romana, la mia ossessione del momento, featuring il mio amico di Roma che è venuto ad insegnarmi a farli. Primo step, trovare i carciofi romaneschi. Secondo step, trovare la mentuccia. Se non trovate quest'ultima, basterà anche un trito semplice di aglio e prezzemolo. Poi si passa ai carciofi. Il gambo va accorciato e spellato da tutta la parte esterna dura e filamentosa. Per le foglie vanno tolte tutte quelle esterne dure e più scure, fino a rimanere con quelle chiare e tenere. Poi va rifinito anche l'altro pezzo di gambo e l'attaccatura delle foglie. Limone per non farlo annerire e poi giù di coltello ben affilato per creare la tipica rosellina che si ottiene intagliando foglia per foglia, eliminando la parte viola. Vanno immersi subito in acqua e limone, sempre per non farli annerire. Poi per cuocerli si strofinano con un po' di sale e si mette al centro il trito, un goccio d'olio e via in pentola dove c'è una base di altro olio abbondante. Vino bianco e copro con carta da forno bagnata più coperchio. Quando inizio a rosolare, abbasso il fuoco e lascio cuocere girandoli di tanto in tanto per un'oretta o finché saranno belli teneri.